Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. I barbari esistono ancora? Dizionario della lingua italiana alla voce barbaro. A parte la prima definizione, straniero con un accentuato senso di ostilità, si legge poi appartenente ad un mondo che è lontano dal nostro modo di pensare e di operare, quindi anche noi possiamo essere barbari rispetto a qualcun altro, ma fin qui non ci sarebbero problemi, ma se questi modi di pensare e di operare entrano in conflitto, allora la guerra è alle porte e in genere chi perde è l'impero, i vincitori sono i barbari che entrano da fuori. Alessandro Baricco, i barbari, saggio sulla mutazione. In questo breve saggio Baricco immagina, in una sorta di grande allegoria, tre cittadelle, tre villaggi come li chiama lui, il villaggio del vino, il villaggio del calcio, il villaggio del libro. Il vino, il calcio e il libro direte voi ma cosa c'entrano con i barbari? Ascoltate, ascoltate un pochino, ascoltate per esempio cosa c'entra il vino. Pensate al produttore di vino francese ricchissimo con un nome celeberrimo inchiodato sull'ordine perfetto delle sue preziosissime terre, seduto su una miniera d'oro e adesso inquadrate il produttore di vino hollywoodiano con il suo nome qualunque, seduto sulla sua terra cilena qualunque figlio, se va bene, di un importatore di vini. Metteteli uno di fronte all'altro, non percepite il caro vecchio puzzo della rivoluzione. Voglio dire, è anche una questione di lotta di classe come si diceva una volta, è una competizione tra un potere consolidato e degli outsider ambiziosi. Pensate al parvenu americano che cerca di comprare la collina del bordolese tempio del vino pregiato e vedrete chiarissima l'immagine di un assalto al palazzo, i barbari che cercano di entrare nella città della consolidata del vino e il calcio in tutto questo come si colloca. Pensate all'invenzione della televisione digitale, uno sport che era stato di pochi ricconi e della televisione di stato, finisce nelle mani di privati che seguendo il modello dello sport americano ne accentuano il tratto spettacolare, lo allineano alle regole del linguaggio moderno per eccellenza, quello televisivo, e in questo modo ottengono di spalancare il mercato e di moltiplicare i consumi. Risultato apparente, il calcio perde l'anima, i barbari che attaccano la cittadella consolidata del calcio, della televisione di stato. Il libro è il terreno sul quale meglio si muove, il nostro baricco evidentemente, dove c'erano aziende quasi familiari in cui la passione si coniugava con profitti modesti, adesso ci sono enormi gruppi editoriali che mirano a profitti da industria alimentare, dove c'era la libreria in cui il commesso sapeva e leggeva, adesso ci sono megastore a più piani dove trovi di tutto, dove c'era l'editor che lavorava inseguendo bellezza e talento, adesso c'è un uomo marketing che con un occhio guarda all'autore e con due guarda al mercato, dove c'erano pagine di recensioni, adesso ci sono classifiche e interviste. Quindi come vedete questo saggio sulla mutazione si interroga sui cambiamenti socio-economici, culturali? Pensate all'importanza di questo libro che è datato 2006, voi pensereste vecchio, ormai insomma poco da dire ai nostri giovani? E' altro che, no no, proprio il contrario, perché la mutazione è sempre dietro l'angolo, c'è sempre ogni giorno e andiamoli a scovare questi elementi di mutazione con i nostri studenti e le nostre classi. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, come al solito, non dimenticate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie a tutti. Grazie a tutti.